di una biografia di vita che viene appoggiata in un momento storico particolare in cui, amici, quello che è il vero dramma è il non capirci con le parole. Perché il vero dramma, dottore, è proprio questo aspetto, che è ciò che manca l'intesa su dei vocaboli chiave con cui noi interpretiamo il reale in modo individualistico. Allora, una persona che agisce è responsabile, caparbio o despota? Una persona che ha carattere, chi è? Una persona che ci crede o una persona avvoriosa? Notate un po' che cosa fa. Allora, per me la Forge è stata una persona che ha avuto carattere, che ha avuto coraggio, impegno, coerenza, credo in ciò che fa. Per un altro, invece, è stato, chi invece è stato, ha avuto boria, ha avuto... Allora, a questo punto cosa accade, amici? Per dirci la verità basta dire l'azione che uno compie. È l'azione che ci dice il vero interpretativo delle nostre parole, altrimenti il resto è chiacchiera. Non ci accontentiamo adesso della sintesi che in poche battute praticamente ha raccontato il libro, perché poi ha detto il metodo utilizzato, ha detto qual è l'utilità di quello che è stato fatto, ma chiaramente il contenuto è tutto da leggere. Adesso un'ultima domanda, credo che come tempi ci siamo ancora... Faccio una domanda semplice. Sì, no, non mi permetterei mai di fare domande. È una domanda esperienziale anche questa, qualcosa l'abbiamo accennata. C'è un passaggio, molto breve per la verità, in cui si fa riferimento alla prima infanzia del professore, in cui si dice ma tu da bambino praticamente come eri, che tipo di bambino eri nella vita? E questa domanda qua secondo me non è sufficientemente poi indagata. La risposta c'è, non l'anticipo io se vorrà l'anticipo il professore, perché qualche curiosità deve restare. Però perché è molto interessante questo aspetto? Perché quando noi siamo bambini, o siamo stati bambini, tutti lo siamo stati, per adesso funziona così, avevamo un approccio con la realtà che era per molti versi più libero dell'approccio che abbiamo da adulti, che abbiamo adesso. perché da bambini non dovevamo tenere conto ovviamente della nostra carriera, della nostra, ma neanche dei condizionamenti. Non avevamo un sindacato che ci veniva a controllare, potevamo giocare anche più di otto ore al giorno, senza violare niente, ma soprattutto eravamo liberi di seguire quelle che sono le evidenze elementari che tutti gli uomini hanno per tutta la vita, anche adesso e anche fra cento anni, che rendono gli uomini tutti uguali. Cioè tutti gli uomini si accorgono di una cosa che è vera o che è falsa, che è giusta o ingiusta, che è bella o che è brutta. Tutti se ne accorgono. Anche il peggior assassino che uccide in maniera efferata sa benissimo che sta commettendo una gravissima ingiustizia, che sta commettendo una violenza. E anche il detrattore di tutti sa che una cosa è bella. Beh, da bambini questa cosa è più evidente perché abbiamo meno filtri, in qualche modo da bambini siamo più veri perché non abbiamo ancora imparato a mettere degli scudi di protezione o delle censure sulla nostra umanità, sulle cose che ci stanno veramente a cuore e che ci determinano che ci determinano sino in fondo. Noi dobbiamo farci violenza. Per dire che è una cosa bella e brutta dobbiamo farci violenza da adulti. Dobbiamo in qualche modo violentare la nostra stessa umanità. Ora, in questo, questa domanda volevo fare al professore lei ha conservato anche da adulto un approccio, oserei dire, fanciullesco non nel senso dell'approssimazione perché evidentemente non era chiamato a fare questo ma un approccio fanciullesco come di chi continua a credere ancora nel cavaliere senza macchie, senza paura cioè in chi può fare una battaglia può fare una battaglia perché è giusto farla perché la sta combattendo per una ragione di cui è convinto perché ora questa cosa qui nella nostra cultura ci insegnano e queste sono tutte quelle censure che poi noi ci mettiamo ci insegnano che è un'operazione sbagliata cioè che combattere una battaglia secondo un ideale o rispondendo a quelle evidenze elementari di cui siamo costituiti diciamo cristianamente si dice di cui è fatto il cuore dell'uomo però a prescindere dalla definizione cristiana il cuore dell'uomo è fatto proprio così ecco ci dicono che combattere queste battaglie vuol dire perdersi qualcosa vuol dire rinunciare a qualche cosa vuol dire in qualche modo non raggiungere degli obiettivi insomma è una cosa un po' da Don Quixote e commentavamo prima qui violentando anche nell'uso delle parole violentando anche il vero senso della figura di Don Quixote che non è quel cavaliere pazzo che parte a fare le battaglie proprio neanche in quello che ha scritto Cervantes quindi c'è una confusione di parole c'è una bellissima frase del piccolo principe che dice le parole sono fonte di malintesi l'essenziale è invisibile agli occhi ma non vuol dire che non dobbiamo fare lo sforzo di comunicare vuol dire che l'essenziale è quel cuore di cui parlavo prima che è invisibile agli occhi ma è perfettamente intellegibile alla nostra coscienza allora la domanda è semplice spero professore la domanda è questa vale la pena continuare lei ha una certa età ha fatto tutta una vita quindi ci può parlare di un'esperienza vale la pena di seguire il cuore o piuttosto avrebbe avuto dei vantaggi ulteriori o avrebbe raggiunto degli obiettivi anche nell'interesse comune migliori se avesse rinunciato a seguire il cuore che vuol dire seguire un'etica darsi un'etica e seguirla e avesse invece preferito raggiungere degli accordi magari migliori se le sono stati proposti non vogliamo sapere le proposte che ha ricevuto ma se lei ci dice che ne è valsa la pena ecco in poche parole se è valso la pena fare quello che ha fatto o se avrebbe potuto rinunciando a un pezzo di cuore ottenere dei risultati più interessanti più appaganti e doveva essere facile la domanda intanto io la ringrazio perché ha fatto una presentazione del libro molto bella in un certo momento ho detto ma sta leggendo il mio libro siamo sicuri che e ovviamente ringrazio anche Carlo che è stato uno stimolo formidabile per la curiosità che introduceva con le sue domande il tentativo di mantenere il livello che lui introduceva con queste sue domande quindi quando leggerete il libro capirete la difficoltà di fare un'intervista con Carlo che eleva moltissimo il tutto la risposta che mi viene spontanea è il dirle che secondo me il metodo giusto è quello che io ho adottato cioè buttare il cuore oltre l'ostacolo e andare fino in fondo senza nessuna possibilità di compromesso rispetto agli ideali ai principi e a quello che era l'obiettivo strategico che avevamo tutti quanti condiviso se dovessi tornare indietro rifarei più o meno le cose nella stessa maniera senza grande differenza perché io sono convinto che non si governa ricercando il consenso ma facendo le cose giuste e quando si fanno le cose giuste non è detto che siano tutti quanti d'accordo anzi se la cosa è veramente giusta ma ovviamente la definizione di giusto deve essere condivisa deve essere un'operazione di dialogo forte che individui la cosa giusta dopodiché quando si persegue la cosa giusta a quel punto non è importante il consenso è importante riuscire a fare la cosa giusta io in tutti questi sei anni questo ho fatto sistematicamente qualche volta con qualche incomprensione di gente che non ha capito proprio ho dovuto dire molti più no che sì e mi faceva molto più piacere dire sì perché dire sì voleva dire conquistare un facile consenso avere un'amicizia che non si perdeva e qualche volta non avere risultati migliori perché fine il dissenso inseguito come modo di governo non è che sia proprio il massimo però consente di non dare privilegi di non fare grandi differenze per nessuno e tutto sommato di accontentare tutti quando tutti quanti non vedono il privilegiato sono tutti disposti a seguire chi sta muovendosi con obiettività onestà intellettuale e distacco rispetto a quelle che possono essere le pretese di tutti quanti quindi questa forma di governo che poi viene anche dalla mia formazione manageriale è quella che consente migliori risultati in assoluto quindi difficile fare dei compromessi che poi possono portare a un miglioramento di certi risultati perché si devia dal percorso principale si devia dall'ideale si devia da quello che è il giusto che è stato condiviso quindi il momento importante però è la condivisione del giusto io non ho l'orgoglio di poter dire che in sei anni di governo dell'università non ho mai rifiutato un appuntamento a nessuno mai ho ascoltato tutti ho cercato di aiutare tutti ci sono quelli che hanno parlato ma non sono mai venuti neanche a chiedere gli appuntamenti perché non si volevano confrontare rispetto all'ideale o all'approccio rispetto ad un progetto che era stato già condiviso e quindi volevano semplicemente deviazioni e quindi non hanno neanche cercato l'interlocuzione quindi io mai ho rifiutato un dialogo ad alcuno qui sono tanti che hanno avuto modo di conoscermi di dialogare con me il dialogo è per me fondamentale per definire bene che cosa la cosa giusta da fare una volta che la cosa giusta da fare è condivisa a quel punto io vado come si lamentano alcuni come un car armato cioè vado senza problemi nella direzione ho i miei noi ingegneri li chiamiamo sistemi di retroazione feedback quindi di tanto in tanto io faccio il controllo del percorso in maniera tale che non abbia preso io una direzione sbagliata ossia deragliando rispetto a un obiettivo strategico ma siccome questo generalmente lo verifico proseguo ovviamente senza troppo preoccuparmi o impedendo a chi vuole rallentare di cercare in qualche maniera di fermare la marcia delle cose giuste che si fanno all'interno dell'università io soddisfazioni da questo punto di vista ne ho avute tantissime e ho visto il consenso della gente intorno a me che all'inizio non capiva che poi invece è cresciuto proprio perché comprendeva quello che si stava facendo lo comprendeva anche a luce di quel del perché lo si stava facendo e non soltanto i risultati perché i risultati sono stati ovviamente importanti e condivisibili tutti hanno guadagnato da questi risultati in termini di prestigio e di immagine quindi l'Ateneo ne è migliorata molto da questo punto di vista e quello che conta non è tanto la comprensione locale dell'Ateneo quanto quello che è la collocazione nazionale internazionale in questo momento abbiamo e potrei dirvi tante cose rispetto a quella collocazione ma questo è il dato importante i risultati complessivi per la nostra comunità però è anche vero che questo ha comportato sacrifici per tutti qua non siamo arrivati perché io sono stato quello che ha fatto tutto ho fatto praticamente nulla se non guidare la macchina cioè io avevo tutto sommato una posizione difficile onerosa sul piano del tempo abbiamo dedicato io e mia moglie giornate dalla mattina delle 8 alla sera alle 24 a lavorare su queste cose senza sabato e domenica andando anche a mangiare nel rettorato perché non avevamo neanche la mezz'ora di tempo per poterci staccare perché dovevamo fare troppe cose e tante cose però sicuramente il lavoro che è stato fatto è stato il lavoro di tutti il merito che io mi arrogo è semplicemente quello di aver portato avanti una visione nell'ambito di questa vision ho cercato di realizzare il progetto quindi spostare dalla visione al progetto capire le cose che potevano andare avanti dietro il progetto e a quel punto con la mia esperienza di realizzare tutto quello che ho realizzato no non cambierei nulla di quello che abbiamo fatto lo continuerei a fare esattamente nella stessa maniera e continuerei a prendere anche gli schiaffi come ne ho presi abbondantemente perché sono nel giusto in certe cose e ovviamente non intendo scendere a compromessi che possano essere semplicemente il ricatto mediatico se non fai come ti diciamo noi ti portiamo sui giornali portatemi sui giornali non è quello il problema il problema è fare la cosa giusta farla al momento giusto e nell'interesse di tutti quanti nell'interesse della comunità e dell'università non è corretto cercare di avere una specie di pace sociale compromettendo alcuni di quelli che sono gli obiettivi strategici dell'università o i momenti essenziali in cui bisogna dire no e dire un sì non è un obiettivo strategico quello perché può dare solo apparentemente una pace sociale secondo la mia visione ogni volta che si fa un compromesso di questo genere chi è la parte negativa di questi compromessi rialza il tiro rialza continuamente e pone un altro compromesso un'altra proposta e quindi automaticamente rispetto a un percorso ottimale condiviso si deve deviare continuamente e l'università non raggiunge più la meta che invece abbiamo raggiunto con tutti quanti che hanno lavorato nella stessa direzione grazie non basta se no mi commuovete e non vale neanche la pena spendersi tanto perché resta rettore ancora per pochi giorni quindi sicuramente non potrà accontentare molti di voi non ci vengono neanche più a chiedere io ringrazio moltissimo invece di mio l'autore gli autori del libro intervista ho già detto prima per tanti motivi ma adesso aggiungo per la grande umanità delle persone noi come avete visto abbiamo davanti degli uomini dichiaratamente e tangibilmente non abbiamo davanti delle istituzioni e soprattutto abbiamo davanti la testimonianza che vale la pena questo ci conforta perché come il professor Laforgia così anche noi prenderemo degli schiaffi e dobbiamo saperlo prima che li prenderemo e dobbiamo essere disposti a prenderli perché sappiamo che vale la pena fare così c'è più gusto a vivere la vita così a vivere la vita diciamo con soddisfazione a fare un percorso di cui siamo soddisfatti credo che le suore abbiano preparato un piccolo rinfresco per salutarci per salutare anche il rettore i dolci sono fatti fatti in casa sulla buonasera a tutti sono un amico di Nicola sono materano mi chiamo Pietro Mazzoccoli di professione avvocato sono fuori campo amo come tutti voi la cultura e questo momento per me è stato di grande sollievo mi ha nutrito c'è un limite che registro ogni volta nel percorso del cosiddetto meridionalismo intellettuale quello di avere una visione internazionale come lei ha saputo cogliere e realizzare però una scarsa diffusione